Sono onorato di giocare in questa grande piazza, quando mi hanno detto che si poteva fare questo trasferimento ero felicissimo. Mi sto trovando benissimo, questo grazie ai miei compagni di squadra che mi hanno messo nelle condizioni di integrarmi facilmente, sia in campo che fuori. Con il mister mi sto trovando veramente bene, ascolto tutto quello che mi dice, do il massimo per accontentarlo. Perché comunque essere allenato da Zeeman è una grande cosa, sono molto contento di essere qui e darò il massimo per aiutare i miei compagni a raggiungere l'obiettivo. Io credo che abbiamo fatto una grande partita, poi ogni partita è una storia a sé. Il Monopoli è una squadra compatta, rispetto alle altre partite è una squadra chiusa, quindi per trovare gli spazi ci vuole più palleggio e si riusciva a sfondare di meno. Però credo che abbiamo fatto una grande partita in fase difensiva, io sono un terzino, quindi la mia priorità, come dice il mister, i difensori devono prima difendere. Poi quando ci abbiamo palla si attacca, penso che abbiamo fatto una grande partita in fase difensiva, abbiamo portato la vittoria a casa che era il risultato più importante. Che poi una partita attacca un po' di meno, attacca un po' di più, quello conta relativamente, l'importante è portare i punti a casa. Noi affrontiamo ogni partita come tutte le altre e queste due vittorie naturalmente ci hanno portato morale alto, ma sapevamo che queste vittorie sarebbero arrivate. Anche perché col Messina abbiamo fatto una grande prova, forse abbiamo fatto la prova migliore rispetto a partite in cui abbiamo vinto, però il risultato non è arrivato. Penso che quando non arrivano i risultati, però lavoriamo sempre duramente, prima o poi i risultati arrivano. Anche perché è un gruppo molto affiatato e che ascolta alla lettera le indicazioni del mister. Ogni giorno andiamo al massimo, quindi prima o poi la fortuna gira, qualche episodio ci è andato male, non so quanti rigori non ci hanno dato da quando sono arrivato io. Però io sono arrivato in un momento dove i risultati non venivano, ma i ragazzi nello spogliato che comunque erano ottimisti. E quindi queste due vittorie ci hanno sicuramente rafforzato e aiutato mentalmente. Grazie. Da quando sono arrivato il mister comunque in qualche allenamento mi ha messo subito a destra, quindi credo sia stata una sua, tra virgolette, invenzione. Poi il mister dove mi metteva io l'avrei giocato. Sono molto contento perché non l'ho mai fatto, l'ho fatto solo una volta quando ero piccolo. Quindi come ho detto prima sono concentrato, ascolto tutte le indicazioni che mi dà il mister, poi i miei compagni mi stanno aiutando anche in campo. Quindi per me è stato più facile integrarmi subito, sia con le indicazioni del mister che con l'aiuto dei miei compagni. Poi comunque quando si gioca in casa, ho fatto la prima partita che sono entrato in casa, c'era tanto supporto dei tifosi e quello sicuramente per me è stata una spinta in più. Perché i tifosi quando affoggio si fanno sentire, quindi abbiamo tanta adrenalina noi in campo e diamo sempre più del 100%. Io ho avuto un passato un po' difficile, dopo un brutto infortunio al ginocchio ho avuto tanti altri infortuni che mi hanno un po' condizionato. Ho fatto un paio d'anni in Serie D, poi in Latina mi ha dato l'opportunità di ritornare nei professionisti e dopo cinque mesi sono qui a Foggia. Non dico che per me è veramente un sogno, perché non me l'aspettavo, però non ho mai mollato. Non ho mai mollato, sono stati anni difficili, potevo smettere di giocare ma non ho mai pensato a questo. Quindi per me oggi giocare in questa grande piazza e giocare con questi ragazzi che sono forti e essere allenato da Zeman per me è un motivo di orgoglio e sono felice. No, siamo bene, siamo bene, naturalmente ringraziamo comunque anche lo staff sanitario che ogni giorno ci cura, poi siamo dei professionisti quindi ogni giorno ci curiamo. Naturalmente ci sta un po' di stanchezza, ma come ce l'abbiamo noi, la stanchezza ce l'hanno anche gli avversari, quindi l'aspetto mentale fa tanto. Adesso siamo sulla strada giusta, abbiamo ottenuto due risultati importanti, anche il parigi a Messina comunque è stato un punto che ci ha permesso di dare continuità. Dobbiamo continuare così, essere positivi e affrontare ogni partita come se fosse una finale. È stata sicuramente una bella emozione quella partita perché ho fatto gol, spero di farlo con la Maio del Foggia. Si è fatto tutto, l'interesse c'è stato dopo quella partita e quando mi hanno chiamato ero entusiasta. Quella partita mi ha cambiato un po' la stagione perché ero convinto di rimanere a Latina. Poi si sa che il mercato di riparazione a gennaio è sempre un mercato incognito, però è arrivata la chiamata e io ero entusiasta. È bello perché il mister ci mette nelle condizioni di fare alla grande. Poi io ho delle caratteristiche offensive, quindi ogni partita ci metto sempre tanto sacrificio. Poi seguo le indicazioni del mister e i miei compagni mi mettono nelle condizioni di esprimere al meglio. Abbiamo giocatori con tanta qualità che mi aiutano soprattutto a mettermi la palla come me la devono mettere. Quindi i complimenti vanno soprattutto ai miei compagni e allo staff che lavora sempre quotidianamente. Per me ogni volta che entro in campo è una grande emozione. Quando entro in campo sono felice. Io non vedo l'ora di giocare in campo con i miei compagni e avere tanti tifosi che ci sostengono. Credo che il calcio senza tifosi sia brutto. L'abbiamo vissuto noi col coronavirus. I stati sono chiusi. Penso sia, per me come la vivo io, sia un altro sport. Quindi quando giochiamo i tifosi a noi ci danno una spinta in più. Sarà una partita difficilissima perché la Turis ha giocatori forti, è una squadra organizzata ed è una squadra che sta nelle parti alte della classifica. Ora è un momento no per loro, ma in questo periodo di campionato un momento no c'è stato un po' per tutti. A volte si deve analizzare che magari i risultati non vengono, ma questo non significa che non vengono ripristazioni. Quindi la Turis è un avversario forte e noi ce la giocheremo alla grande come abbiamo fatto con tutte le squadre. Sarà una partita dura. Penso che l'obiettivo del Foggia sia vincere ogni partita. Giochiamo per vincere ogni partita. Poi a fine anno vedremo dove saremo e tireremo le somme. Ma noi diamo il massimo per ottenere i tre punti ogni partita. Penso che naturalmente ci vuole un po' di tempo per assimilare le idee del mister. Però sia io che i nuovi arrivati abbiamo tanta voglia di imparare. Personalmente se mi viene detto qualcosa che sbaglio sono felice perché posso solo che migliorare e imparare col mister. Quindi orecchie ben aperte e che i consigli ben vengono. Il mister poi ci dà delle indicazioni importanti. E quindi credo man mano tutti quanti staremo sempre più affiatati e cercheremo di fare quello che ci chiede il mister sicuramente. È una squadra forte quindi le insidie ci sono. Ci sono giocatori forti come ho detto prima una squadra organizzata. Sarà una partita che si giocherà a viso aperto e ce la giocheremo al massimo. Grazie. 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 Grazie.